The Visu Online è una piattaforma di identificazione a vista da remoto, che può essere utilizzata in tutti i contesti in cui è necessario il riconoscimento del soggetto prima di erogare un servizio. Ad esempio il rilascio di servizi fiduciari qualificati come la firma digitale o l'attivazione di servizi bancari e di mediazione creditizia, assicurativi, immobiliari e molti altri, migliorando l'efficienza dei processi, la loro sicurezza e accessibilità. È una soluzione completa e multipiattaforma, che consente il riconoscimento di una persona tramite pc o smartphone, senza la necessità di un incontro presso un ufficio o uno sportello fisico. È conforme con il regolamento EIDAS, con il codice dell'amministrazione digitale e con la normativa antiriciclaggio e le relative disposizioni della Banca d'Italia. È integrata con la conservazione digitale di Aruba, permettendo di conservare in modo sicuro e a norma di legge le sessioni audio-video registrate. The Visu Online elimina barriere e limiti legate alle procedure che richiedono la compresenza di operatore e utente. Fornisce elevate garanzie in termini di sicurezza e compliance, aumentando efficienza del servizio e soddisfazione del cliente.